Ciao, sono qui alle Batu Caves, un luogo veramente magico, è un tempio all'interno di una grotta dedicato al dio Vishnu. Volevo farti una diretta ma qui non c'è campo, quindi questo non è possibile. Come prima cosa ti faccio vedere questo luogo veramente magico dove l'energia è strepitosa e poi faremo qualcosa di bello insieme. Guarda che spettacolo, non so se riesci a vedere per la luce. E poi qui c'è il tempio principale, ci sono vari altari. Bene, ho appena fatto una meditazione, anche per te, sia che sia una persona che già mi conosce, sia che tu sia una persona che non mi conosce. Bene, per entrare in connessione con questa energia magica ti chiedo di chiudere gli occhi un attimo e di fare un bel respiro profondo. Chiudi gli occhi un istante. E senti la vibrazione come aumenta immediatamente. Ti suggerisco di fare tutto questo da in piedi. Respira con l'intenzione di connetterti con me in questo momento e con questo luogo magico, con questa energia che è arrivata in questo istante. Senti come si attiva immediatamente l'energia della terra, che qui è molto molto forte. Lasciala arrivare e senti anche come arriva direttamente al tuo cuore. Permettiti di ricevere anche l'energia divina, senza definirla. Non stiamo parlando di energia connessa ad una religione, ma energia divina, genericamente. L'energia più pura, più totale, che esiste e di cui tu fai parte. Senti la che ti inonda e senti come il tuo corpo comincia a vibrare, a reagire a questa energia. La tua vibrazione si innalza immediatamente. E tutto il tuo essere si scalda e vibra. La tua energia aumenta sempre di più, la tua vibrazione aumenta sempre di più. E tu cominci ad espandere ondate di energia attorno a te. Il tuo cuore si apre e l'energia pulsante che deriva da te si espande tutto intorno a te. I tuoi chakra connessi alla visione, al sentire, al percepire, alla chiarosensenza, si aprono. E la tua visione si espande in tutte le direzioni. Il tuo cuore si apre a tutte le possibilità infinite dell'universo. Dai tuoi piedi nascono delle bellissime radici che si diffondono in tutta la terra. Dalle tue mani, dal tuo corpo, si espande un'energia molto potente che si diffonde in tutte le direzioni. Senti come dalla tua scintilla divina si espande un'energia pulsante che, nutrita dall'energia della terra e della fonte, si espande tutto intorno a te. Prima attiva tutto il tuo essere, tutto il tuo corpo e si espande intorno a te. Il tuo corpo si scalda e vibra di luce e di energia. La tua vibrazione si è innalzata notevolmente. E ora tu sei quello che prima non eri. Ora tu puoi quello che prima non potevi. Ora tu vibri un'energia così potente che ogni tuo gesto d'amore, ogni tua intenzione, ogni volta che tu metti il focus, mantenendo questo tipo di energia, le tue possibilità saranno veramente infinite. Mantieni alta questa vibrazione anche nei prossimi giorni e fammi sapere come va, che cosa è accaduto nella tua vita, quali sono le cose che si sono manifestate dopo il lavoro che abbiamo fatto oggi insieme. Aspetto di ricevere le tue notizie, ti auguro veramente una giornata magica di rinascita e di apertura verso la tua migliore esistenza possibile. Ciao, un abbraccio e a presto.